Bintotto de marzo 2018, saluti beni beniusa a Noasa in curso, inghizzaosu voedendi de Drabalu, vortovesme, aisea menjano, i dipendentisi de Seuralumina, si vunti a Tobiasu voo voedai de sa situazione di rususpertocchera, vunti 44, i mesi si vassaosu de singhizio de sa procedura de valutazioni de impatto ambientali, sa decisioni era de pilompi, sicuramente inanta i dipendentisi in san rispetto dei normasa e dei lesi, ma vincese pregontanta senso bono de scosa, sa una preoccupazione sempre rumana, su progetto del rilancio dessa fabbrica arremonanta i dipendentisi de Seuralumina a Bali ribrusu de duzentus milionisi di eurosu, enis interisi susesi de Arbili, una convocazione urgente de su Ministero des Ambienti, Vogussu, in satovio de Iseu, vincese sa missiva a San Regioni, a cui si pregontara un a Tobiasu, in antesi de susesi de Arbili, po' comprendi, con cali posizioni i responsabili si de San Regioni sarda, santa presentai a San Tobiasu Romano. Domunosa con sa approvazioni devarti de su consigli comunali, cesti sa deroga dessa destinazione de impreo, vossa cartiera, beccia e custo araprimiti de inghizzai straballosu del restauro e de avvaloramento del lotto su Giasu. Già in su 2012, vi rastetti a inghizzare la sabonifica dei materiali si dei Zainasa e dei su materiali che vi era avanzato dessa attivitari. Una struttura che avresti destinata a Noceti abbessi una struttura a mano avvocato per toccare al sudurismo, ma avresti vincese a giuro a esa struttura turistica sa già presenti in Domunosa, se ho guardato questa gruta di Sant'Antonio e sono raggi e sono un progetto antico che poi pone in paio questa struttura da importo di Domunosa e adesso apparigiano da un unico soggetto. Dunque questa iniziativa da importo però vincese in questa cartiera, un museo del suo territorio, Infopoint e Sortu Botanico, Scuola di Educazione Civica Ambientale, Sala Multimediale di Formazione in quanto per toccare la grina economia e gli ambienti e vincese uno centro po' su servizio delle protezioni civili e poi l'appareggiamento dei eventi in questa gruta di Sant'Antonio, dunque l'ufficio su servizio delle affittacamere e ristorazioni, ma vincese uno centro di aggregazioni o sport dei monti. E non penso ai nostri utiliari in Ucisi, vorrei mettere la popolazione dei imperai in questa vista dell'Atletica, le amministrazioni comunali variano i orari su Edizi che punte a disposizione della cittadinanza. Fuerao sull'Unisi, su Mercisi e Sa Genabara, a Merì dei Cinco, a Isottemeso. GIVAS, amministrazioni varisciga in Sadi De Grasi, 29 di marzo 2018, i servizi su demografico su Antavarra e Serrao, su vostra formazione dei sui personali. Sant'Anaresi, nei locali della Biblioteca Comunale in via Giuggi Mariano, adesso a Parigiò con il giro del Sbis, su corso di Alfabilizzazione Informatica, corso basico e primo in Giza, sempre ho detto su computer, poi sui studenti della classe prima, della scuola primaria. Carbonia, su comuni varisciga a Saburo, 31 marzo e martesi 13 di Arbili 2018, la Mediateca e la Biblioteca Centrale di Via Learsi, ai 6 di Gortoiana, Barbusi e Sganausi, su sezioni di storia locali, avverrai Serrara a su pubblico. E questa vi è la ultima no, grazie a queste informazioni in sardo in canale 40, qui si va a pregiare, a Tobiasi, in queste edizioni di Benidora, adiosi. Grazie a tutti.